Buongiorno a tutti, sono Roberto Limonta, curatore della Biblioteca di Cultura Medievale Iacabuc. Il libro che vi presento oggi è Futuri Contingenti, un dibattito medievale di Calvin Ormore, uno dei più importanti e prestigiosi studiosi di logica e di filosofia medievale. In realtà il problema dei futuri contingenti nasce con Aristotele nell'interpretazione, quando il filosofo greco si domanda se per proposizioni come domani ci sarà o non ci sarà una battaglia navale, si possa stabilire già oggi quale sia il valore di verità. Aristotele era attento ovviamente ad evitare conseguenze deterministiche. Se oggi è già vero che domani ci sarà una battaglia navale, il fatto che domani ci sia una battaglia navale non è più un fatto contingente, quindi libero, aperto all'intervento delle volontà umane, ma invece è qualcosa di necessario e determinato come il fatto che domani sorgerà il sole. La questione, che può sembrare cavillosa oppure puramente nominalistica e linguistica, diventa invece un problema filosofico tra i più profondi e più dibattuti quando si incontra nelle teologie medievali con un principio fondamentale come quello di un Dio onnipotente e onnisciente, quindi capace anche di conoscere ciò che sarà nel futuro. Se Dio sa già oggi che domani non ci sarà una battaglia navale, e domani non ci sarà una battaglia navale, quindi noi non saremo liberi di fare o non fare battaglia. I pensatori medievali hanno elaborato soluzioni raffinate e molto profonde e sottili a questa domanda e hanno costituito un repertorio a cui hanno attinto non soltanto grandi scrittori del mondo contemporaneo come Borges e Philip Dick, facendone quindi un motore narrativo, ma anche tutti quei filosofi che hanno cercato di ragionare oggi sull'esistenza effettiva del libero arbitrio, al di là dei condizionamenti, di quella necessità che magari non è più quella divina, ma è quella, ad esempio, delle leggi scientifiche. Il libro di Calvin Norbor costituisce una efficace, sintetica, ma completa storia di questa affascinante idea. Buona lettura.